Una nuova curva a disposizione delle tifoserie ospiti, risanamento della tribuna centrale e varie migliorie che ora rendono lo stadio di Sedico, pronto ad ospitare le partite di Serie D del San Giorgio Sedico. Mancano solo pochi ritocchi, ma domenica il debutto casalingo dei Bianco Rosso Celesti avverrà in una struttura rinnovata rispetto alle scorse stagioni. Al campo in erba sintetica, completato un anno fa, si aggiungono ora spazi più ampi e ammodernati per un impianto che potrà ospitare oltre 600 posti a sedere ed altri in piedi. Un grande lavoro svolto dalla dirigenza che ha poi messo a mano all'impianto sonore prossimamente potenzierà l'illuminazione. Emozionato lo storico presidente Sergio De Chan. Chiaramente sarà un'emozione domenica perché con l'incontro, con giocare a Serie D qui, tutto rinnovato, è una cosa veramente grande. Devo ringraziare tanto i miei collaboratori perché abbiamo fatto tanto, abbiamo uno stadio che credo sia invidiato in tutto il Veneto, perché ho visto gli stadi in giro, anche i sintetici così, ma questo è grande, è bello, soprattutto è nuovo, c'è la recensione, c'è tutto. Abbiamo fatto di grossi lavori qui, credo che c'è ancora qualcosa da fare, ma certamente fra poco avremo uno dei migliori stadi del Veneto. Insomma, averli a Sedico è una cosa per me anche, per tutto, per il mio passato, passato anche perché sapete, ho fatto per tanti anni sindaco qui, quindi lo stadio c'era prima, ma non era usato così. Adesso arrivare in Serie D è una cosa grande per noi, è una cosa grande, un'emozione, sì. Domenica dunque San Giorgio Sedico-Campo d'Arsego, mentre domani alle 15. Anticiperanno le loro partite della seconda giornata, Union-Feltre Belluno, rispettivamente in casa allo Zugni-Tauro e al Polisportivo, contro Charlins Muzzane ed Ambrosiana.